Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Siamo arrivati all'aggiornamento di Studio One 4.5.3 che integra finalmente tutte le funzioni relative alle tastiere e ai controller di Nativi Instruments. Vi ricordo che è fondamentale che le tastiere di controller siano aggiornati con l'ultima versione del firmware disponibile, che il sistema operativo per quanto riguarda OS X sia Sierra o superiore perché le versioni precedenti non sono più supportate e che tutti i driver siano stati installati correttamente attraverso il Native Access di Nativi Instruments. Una volta aperto Studio One controlliamo che nelle preferenze sotto la sezione dispositivi esterni siano state installate un controller chiamato appunto Complete Control Doe che troviamo qui sotto, lo troviamo qui in basso infatti, settato sia come ricevi da che invia a. Se non fosse presente di default clicchiamo su aggiungi periferica, selezioniamo la nuova superficie di controllo e all'interno selezioniamo Complete Control Doe. Ricordiamoci che è necessario anche installare la tastiera come strumento, quindi come controllo esterno per i plugin di Nativi Instruments, quindi aggiungiamo sempre anche la tastiera premendo su aggiungi, nuova tastiera e ricevi e trasmetti da Complete Control, in questo caso S49 porta 1 e porta 1 anche nell'invio. Ci troveremo quindi in questa situazione come vediamo in questo momento. Facciamo applica, ok. Siamo pronti per creare una nuova song. La chiameremo Complete Control e ora la nostra tastiera è pronta per controllare Studio One. Possiamo utilizzarla quindi come strumento o come controller di tutta l'applicazione, infatti i pulsanti Play come vediamo funzionano e Stop anche. Abbiamo la possibilità di accendere o spegnere il metronomo, di dare il tempo con un tap Tempo anche, premendo quindi a tempo sulla scritta di questo tasto. Vedremo come sotto poi il metronomo cambia in base all'impostazione. Abbiamo ovviamente la funzione di On Off dei Loop, la possibilità di avere un Undo e Redo, quindi in base a quello che noi facciamo possiamo cliccare Undo e con Shift Undo fare il Redo. L'opzione Quantize attivabile da questo pulsante e l'opzione Auto che vedremo adesso attivabile sul mixer di Studio One. Per accedere alle funzioni di mixer aggiungiamo delle tracce audio, in questo caso 8, chiameremo S49 e automaticamente vediamo anche l'accensione dei tasti Mute e Solo che vedremo come attivare e attraverso il pulsante mixer del mio controller accediamo alle funzioni del mixer di Studio One. In questo momento possiamo selezionare le tracce dei canali attraverso i pulsanti qui in alto e muovere i fader attraverso i fader presenti sulla tastiera. Tutto è già automaticamente selezionato. Per attivare i pulsanti Solo e Mute premiamo Solo e selezioniamo la traccia che vorremmo tenere in Solo. Qualora ci trovassimo ad utilizzare per esempio Machine o il controller esterno di Native Instruments dovremo necessariamente utilizzare Studio One Professional perché nella versione Artist che stiamo usando in questo momento non è possibile caricarli come strumenti esterni mentre la tastiera rimane comunque il controller per Studio One. Vediamo come fare e caricando all'interno uno dei preset come ad esempio Absinthe vediamo che all'interno della nostra tastiera vengono caricate le patch e la possibilità di lavorarci come quando le utilizziamo in maniera Keyboards. Per poter ritornare ai controlli di Studio One è sufficiente cliccare su Mixer ed avere quindi accesso ai controlli diretti della Do. Per ripassare al plugin clicchiamo su Plugin e torniamo all'interno del plugin. Lo stesso accade quando carichiamo Machine. Possiamo infatti continuare la navigazione all'interno dei nostri preset e caricare altre patch e per poter tornare poi alla manipolazione dei controlli della Do cliccando su Mixer torniamo appunto sul controllo del Mixer che abbiamo qui sotto. Selezioniamo la traccia. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante sotto a destra e continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Ho aperto anche un account Patreon per poter supportare con un minimo contributo il lavoro di diffusione didattica che sto facendo da qualche anno. Per il momento è tutto. Ciao a presto.